Cosa di riposo a rischio, l'Ul Sotto mette in campo tutte le sue forze per arginare l'avanzata del Covid-19. Arrivano i primi ferretri da Bergamo, Vicenza si è offerta per la cremazione. Sindaco di Vicenza e il governo servono finanziamenti, bisogna battere i pugni sul tavolo europeo. Emergenza coronavirus, i dati di Google fotografano gli spostamenti, i veneti sono i più virtuosi d'Italia. Polzano Vicentino, azienda del settore sportivo, si riconverte e produce mascherine malattita, la certificazione ministeriale. Buonasera e benvenuti alla TG Vicenza, andiamo subito a vedere i dati relativi all'emergenza coronavirus in Veneto. In questo momento nella nostra regione ci sono 10.581 casi positivi, sono 117 in più rispetto a questa mattina. Sono 20.238 le persone in isolamento domiciliare. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella che è sempre molto importante perché ci dice qual è la situazione degli ospedali in Veneto. Abbiamo in questo momento 1.598 persone ricoverate, sono 31 in meno rispetto a questa mattina. Abbiamo 327 terapie intensive impegnate, sono meno 8 rispetto a questa mattina. 10.098 sono le persone guarite e 557 sono i decessi dall'inizio dell'emergenza, ovvero dal 21 febbraio. Sono 23 in più rispetto a questa mattina. Questi erano i dati dal Veneto. Andiamo ora invece a vedere i dati che ci arrivano dall'Ulss 8 Berica. La situazione nello specifico. Continuano i tamponi nell'Ulss 8 Berica, 323 in più di ieri, di cui 36 positivi. Due i ricoverati all'ospedale San Bortolo, 3 a 90 Vicentina. Nessuno di loro in terapia intensiva. Tre purtroppo i decessi. Si tratta di una donna di 89 anni di Altavilla e di due uomini, un 86 anni di Arzignano e un 77 anni di Vicenza. Cinque invece i nuovi dimessi. E ora andiamo a vedere l'arrivo delle salme, dei feretri da Bergamo a Vicenza perché la città si è offerta di fare il lavoro di cremazione delle salme. Mi arrivano adesso? Sì. Quante salme arrivano? Dieci. Dieci? Quei camion? Vuole che faccia dieci fiori e li mettiamo sopra la bara? Se vuole, sarebbe una cosa, se mi basta uno, io voglio... Ne faccio uno per bara, veloci. Faccio volentieri. Va bene, così li riprendo. Li preparo e li porto lì, dove era lì davanti? Sì. Va bene? Grazie. Prego, prego. E' nato così, con immediata spontaneità, rose rosse per ciascun feretro, un gesto semplice e generoso per esprimere solidarietà, la stessa con cui i vicentini hanno accolto le prime dieci salme provenienti da Bergamo, dove i forni crematori sono saturi di richieste. Dieci persone decedute per Covid-19, trasportate su due camion militari, quelli degli alpini del reparto trasmissioni, escoltate dai carabinieri. Non era prevista nessuna cerimonia, ma il sindaco Rucco ha voluto essere presente, silenziosamente. Vicenza ha offerto il proprio forno crematorio per alleggerire la città lombarda così tanto provata. Domani sono attese altre dieci salme, accolte sicuramente con altri fiori. E ora andiamo a vedere le azioni che Luis Otto Berica ha intrapreso per arginare la diffusione dell'epidemia da coronavirus nelle case per anziani. Case di riposo sono ancora una volta loro nel ciclone Covid-19. Il vicentino sembrava fino all'altro giorno immune ed invece si scopre vulnerabile. 15 casi di anziani positivi e la residenza sanitaria assistita IPAB Trento. In centro a Vicenza, ad Asiago 50 ospiti su 60 sono positivi. A Gambellare, Altavilla impennata di casi. Una situazione che al momento sarebbe ancora sotto controllo. I pazienti sono assolutamente asintomatici. Noi abbiamo solamente avuto due casi di ricovero che poi però, tra l'altro, prontamente sono rientrati in casa di riposo. Hanno alcuni pochi sintomi, tipo la febbre, un po' di tosse eccetera, ma sintomi assolutamente gestibili all'interno della casa di riposo. Ospiti tutti separati in apposite alle Covid. Nel frattempo è scattata un'operazione che prevede di effettuare tamponi a tappeto. Vengono tamponato non solo gli ospiti, ma anche il personale dipendente delle case di riposo e quello che a qualunque titolo entra nelle case di riposo. 500 quelli già effettuati tra Altavilla, Orgiano, Gambellara, Dueville, Valdagno e Ipab Trento a Vicenza. 63 i soggetti positivi. Attivata anche una task force che sta facendo il giro delle strutture composte da un infettivologo che effettua una consulenza clinica, un igienista che verifica i percorsi in caso di isolamento e un infermiere esperto. Anziani a rischio e con loro anche il personale. Il materiale sta lentamente arrivando. Oggi se mi dice se siamo autosufficienti dico no. Tamponi effettuati anche il personale dell'uslotto, 3200 dipendenti di questi 82 quelli positivi. Intanto l'ospedale San Bortolo di Vicenza si arricchisce grazie ad una donazione di un nuovo ecografo polmonare per il monitoraggio dei pazienti Covid che consente di non usare il tradizionale estetoscopio ma appunto l'ecografia applicata al torace per lo studio del tessuto polmonare profondo. E ora facciamo il punto con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Veneto blindato, i sacrifici servono, la cura funziona, i bollettini vanno in flessione sui ricoverati, si sta invertendo la tendenza. Rallentano i contagi da coronavirus ma adesso bisogna andare avanti con il massimo rigore, senza previsioni, con l'orizzonte temporale che resta quello del 13 aprile anche a Vicenza. Il sacrificio sapevamo che sarebbe stato lungo e dovremo comunque cominciare a ragionare sul post-emergenza in particolare a favore delle attività produttive. Attività produttive che significa posti di lavoro, significa economia, non quella stratta ma quella concreta, quotidiana, domestica. Le aziende sono chiuse, per ripartire avranno bisogno di un sostegno che lo Stato da solo non può garantire. Per questo è necessario oggi più che mai un'Europa vera, solidale, unita come non lo è stata fino ad ora. Mi sarei aspettato un'Europa solidale. Quello che non lo è stato, assolutamente, una grande delusione. Devo dire che hanno ancora il tempo di riprendersi. Aspettiamo segnali importanti con iniezioni di liquidità straordinaria, quello che stanno facendo in tanti altri paesi. Non possiamo pensare che l'Italia possa uscirne da sola da questa situazione. Quindi il governo e tutto e le forze di opposizione devono unirsi a livello nazionale per battere i pugni sul tavolo europeo. E ora andiamo a vedere come avverrà la distribuzione dei buoni spesa che sono già arrivati a Vicenza. Sono 11.700 mogli da 50 euro ciascuno. Il tutto coordinato con due funzionali del Comune di Vicenza ma soprattutto con l'ausilio della Guardia di Finanza perché viene messo un timbro a calce proprio per evitare la contraffazione. Un timbro in rilievo apposto dalla Guardia di Finanza che in mattinata era la stamperia di Palazzo Trissino per vidi mari buoni stampati. Un elemento in più volto ad evitare che i soliti furbetti possano avvantaggiarsi a scapito delle persone bisognose ma non è l'unico elemento messo in campo. Ci sono molti colori quindi non tutti i buoni avranno lo stesso colore, avranno dei simboli identificativi e quindi proprio per evitare la fotocopiatura. Quando si potrà iniziare a fare la domanda? Da lunedì alle ore 9 sarà messo online nel nostro sito del Comune di Vicenza l'autocertificazione per poter beneficiare di questo bonus. La domanda può essere fatta solo online. I buoni sono cumulabili, personali, non trasferibili e non convertibili in denaro e servono ovviamente solo ed esclusivamente per fare la spesa di beni di prima necessità. Viene fatta una prima verifica dei nostri uffici e superata questa prima verifica già nel primo pomeriggio di lunedì saremo in grado di poter cominciare a consegnare in casa quelli che sono i buoni. L'operazione della consegna avverrà tramite incaricati del Comune di Vicenza e ovviamente gli incaricati non potranno entrare in casa dei beneficiari ma verranno consegnati loro una busta con i buoni. Vi va chiesta una dichiarazione di ricezione della busta e soprattutto gli verrà fornito il cartaccio dell'autocertificazione per essere sottoscritta. Sentiamo cosa ha detto oggi Luca Zaia, Presidente della Regione. Rinnoviamo e proroghiamo la vecchia ordinanza fino al 13. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si va a fare la spesa, io ve la traduco in parole povere ma molto pratiche, non si va al supermercato la domenica perché sono chiusi, restano le distanze di 200 metri all'interno delle quali poi abbiamo anche specificato e resta la possibilità di fare attività motoria, di sgranchirsi le gambe, di fare attività motoria che non sia attività di gruppo anche minimale. I mercati di alimentari, quelli all'aperto, i famosi mercati, devono avere un piano di gestione e se no chiudono. Qual è il piano? Primo, nel caso di mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o nastro in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Punto B, è vietata la vendita di prodotti floroviveistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio. C, obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, lo abbiamo detto prima, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Abbiamo i dati di Google che fa capire come avvengono gli spostamenti durante l'emergenza coronavirus e una buona notizia, i Veneti sono i più virtuosi. Deserto urbano, Vicenza si sveglia così, ancora una volta per l'ennesimo giorno di una primavera lontana che fiorisce dietro alle finestre chiuse. Cartoline di un Veneto fotografato anche dai numeri che mutano in grafici, in proiezioni. Nella società informatica i report di Google mostrano come si siano modificati gli spostamenti e così, nel mondo colpito dalla pandemia, emerge il Veneto, la miglior regione italiana, quella che, in un marzo che ha rivoluzionato la nostra vita, è stata la più capace di adattarsi alle restrizioni imposte per soffocare il Covid-19. Se in Italia la mobilità verso ristoranti, caffè, centri commerciali è precipitata del 94%, beh, il Veneto è arrivato a un calo persino del 96%. Se nel Paese la mobilità verso mercati, alimentari e farmacie è scesa dell'85%, in Veneto è calata addirittura del 95%, è del 91% verso i parchi, quando a livello nazionale la media segna un meno 90%. C'è chi resta a casa perché può, perché deve, c'è chi invece si muove, perché è una linea vitale minima, bisogna sostenerla nelle attività, nella produzione, ma le distanze sociali impongono una rivoluzione che rovescia le logiche anche negli spostamenti. Il trasporto pubblico precipita, l'italiano si dirige alla stazione dei treni o alla fermata degli autobus l'87% in meno e meno ancora, meno 89% in Veneto. Ma nella locomotiva d'Italia, tra le distese dei capannoni, delle aziende che animano l'economia nazionale, si diradano anche del 62% gli spostamenti verso gli uffici, i luoghi di lavoro, quando in Italia il calo medio è pressoché identico del 63%. Poi, però, c'è anche una crescita, un aumento, sono gli spostamenti verso le proprie abitazioni. In Italia sono saliti del 24%, in Veneto del 25%. Si torna a casa di più, si chiude la porta, si lasciano alle spalle le strade, le piazze, finisce un giorno, ne inizia un altro, l'ennesimo deserto urbano. Questa che vi facciamo vedere invece è la storia di un'azienda che ha attuato la riconversione per produrre mascherine, mascherine pronte, ma manca la certificazione. Non sono mascherine usa e getta, sono nate da una serie di prove che hanno portato poi alle versioni finali e che inizialmente sono state testate, ogni materiale, con i pochi strumenti a disposizione comunque che testano traspirabilità. Degli indumenti per la vela, alle coperture per le ruote della moto, alle mascherine. È un'altra storia, quella della Marco Polo di Bolzano Vicentino, l'idea internazionale del settore moto, di aziende del laborioso Veneto, che in questo momento di emergenza hanno scelto di riconvertirsi. Sono partiti subito ancora a febbraio e di test ne hanno fatti tanti, fino ad arrivare a tre modelli, a seconda dell'uso e soprattutto non usa e getta, anche per una forma di rispetto dell'ambiente. Tutte le nostre mascherine, indipendentemente tutte, prima di essere imbustate, sono sanificate, lavate e tutti questi materiali che noi abbiamo testato sopportano un minimo di nove lavaggi. 2.000 le mascherine prodotte al giorno nel laboratorio, dove i dipendenti e i titolari lavorano H24, dove tutto è made in Veneto e chilometro zero. L'elastico a 8 chilometri, la fettuccia a 12, il tessuto arriva da mezz'ora di strada, quindi è tutto prodotto in loco. Mascherine che vengono vendute sul territorio, ma che oggi si scontrano con un ultimo passaggio burocratico, quello della certificazione da parte del Ministero. Noi siamo a posto con la coscienza perché abbiamo tutte le prove certificate, però è impossibile ottenere risposta. Loro intanto continuano a produrre forte di una storia, oggi solo alla quarta generazione di 30 anni di lavoro, partita dal padre con una vecchia singer per arrivare alle mascherine. Succede anche questo in questo Veneto che non si vuole mai fermare. Per oggi da Vicenza è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che questa sera alle 21.15 ci sarà Focus con il direttore Luigi Baciali che avrà in collegamento Skype per parte della serata il presidente Luca Zaia, poi saranno ospiti Federico Caner, Gian Antonio Dare, Francesco Manfia, Simonetta Rubinato e Andrea Zanoni. Per questa sera da Vicenza è proprio tutto. Buona serata. Ben trovati al meteo, una vasta area di alta pressione, si espande progressivamente sul nostro territorio, tempo stabile con temperature in graduale aumento fino a valori più tipici per il periodo. Il dettaglio di sabato 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Vedete, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Clima caldo con temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 16 e i 9 gradi all'incirca. Stessa situazione anche a Vicenza, in città ma anche in provincia sarà una giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Anche qui l'anticiclone garantirà condizioni di bel tempo e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso e anche il clima risulterà piuttosto mite. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.